Ehi Fere, mi vedi? Più o meno, dove sei Steph? Sono sopra il cavallo dell'arena, sai perché? Ah bello, perché? Perché quest'oggi i miei mostri conquisteranno questa arena Non credo proprio Steph Sconfiggeranno i tuoi Non credo proprio E diventeranno i più famosi di sempre Si sa che tu nelle battaglie perdi sempre Steph Ma infatti io non Io non devo combattere Io devo creare i mostri che combattono Quindi ho qualche chance Ma prenderanno anche i mostri Poi con tutto il pubblico che c'è Guarda quanta gente c'è nei palchi eh Metti un po' di pubblico Steph dai Chi metto? Aspetta, aspetta, aspetta Aspetta, aspetta, so io, so io Guarda Fere, giusto qualcuno per accontentarci Finalmente, pochissimi però va bene Dai, iniziamo Steph Beh, almeno qualcuno è venuto E ragazzi come va? Io sono Fere Niki E io sono Steph Che si giocava a Minecraft E benvenuti in un nuovissimo episodio di Minecraft In cui i nostri mostri si sfideranno E vedremo chi riuscirà a creare il mostro più forte Allora, avete completamente adorato il video dove abbiamo creato i nostri mostri Quindi abbiamo pensato Facciamone un altro Però cambiamo un po' le carte in regola Perché ci piace sempre cambiare quel qualcosina In questo caso i nostri mostri dovranno scontrarsi Allora, ti dico il primo tema che ho pensato Ok, vai Il primo tema che ho pensato è che il nostro mostro deve essere prevalentemente blu E ovviamente devi fare il più forte possibile Quindi pensalo anche nell'ottica di un combattimento Per quanto magari armi lunghe E se armi va bene Braccia lunghe Eccetera eccetera Allora Consolini Questo mi piace Guardate bene Guardate bene che questo è buono Facciamo La testa sua Che secondo me è abbastanza forte E ricorda quei colori lì Il corpo suo Che secondo me non è male Con le gambette sue Che sono pretty good Ho preso proprio sulle gambe Lo sai Io sulle braccia Io le braccia ho scelto Mi mancano proprio le gambe Non so Le braccia è difficile Perché non trovo nessuno che abbia quei colori lì Forse è giusto Eh io per le gambe Quelle sue Però Un po' Un po' Diciamo che non le ricorda troppo Ma ce le facciamo andare bene Dai Facciamo così Ascolta anche io Queste più o meno È un blu Non troppo scuro Ma è un blu Nel mio inventario ho creato la forma del mio mostro È bellissimo Non mi puoi dire nulla Fatemelo guardare un po' Oh mamma mia No che cavolo mi è uscito Steph Pronta? Sì vado Prima io Prima tu Vado Prima tu Allora Quindi al torso Dello squid A testa di quel ragno Le braccia gliele ho messe lunghe Perché ho detto Il torso è bello tozzo Capito Le gambe Ho avuto un po' di fico al tom Ho usato quelle dello zombie Perché comunque Il pantalone è blu Sono dei jeans blu Allora Quindi va bene Allora Guarda il mio Devo dire che questa volta Sono molto carini entrambi Molto A me piacciono L'Emberman comunque È sempre creepy In qualunque situazione Lo metti Fa sempre Oh 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 Stai calmo No ti seguo Stai calmo Vieni qua Tranquillo Non devi attaccare a me Devi attaccare il mostro di Fere Rilassati Avvicinati al mio Io mi avvicino al tuo No ci dobbiamo dare una botta 3 2 1 Vai 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 Fere ma così picchiano noi Hai sbagliato Ti sei confusa Cosa bisognava fare picchiare Dovevano piccharsi Ok Devo dire che il tuo mi ha steso eh 3 2 1 Vai 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 Ok Eccoli eccoli che combattono Vai Ci siamo Pestalo Pestalo Ce la puoi fare Ce la puoi fare Amico mio Ti ho preparato In tutti i modi possibili Quello lì Ha gli occhi storti E mezzo strabico Non ha gli occhi storti Non puoi perdere Però c'è da dire Che tu avendo anche il corpo della witch È molto forte Teoricamente sì È interessante Infatti sono stato furbo Bravo Bravo Vieni qua Adesso vai anche a picchiare Steph Bravissimo Cioè uno fa le cose Più forti Teoricamente E invece perde lo stesso Perché Fere in battaglia Deve vincere a priori Vuoi sapere il prossimo tema Fere? Certo Steph Ormai sono in fermento Perché ho vinto Quindi sono felice Ok Il prossimo tema È solo pezzi di animali Ok Ok Niente mostri Niente di niente Solo pezzi di animali Saranno debolissimi Cioè faranno schifo Ahà Devi riuscire a scegliere L'animale più forte Allora Il ragno tecnicamente È un animale È un mostro No mostro Dai Quindi animali pacifici Sì Ok Sì 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 Lui Ok Anche lo squid lo puoi mettere Ok Ok Perché dai Secondo me ci sta tra gli animali Il problema è che hanno tutto il corpo allungato Quindi esce per forza qualcosa di strano Però vabbè Sì vabbè Ma non è importante se è bello o brutto secondo me Poi Vediamo un pochettino Mi servono braccia e gambe E qua viene il difficile Secondo me Cioè così Le braccia forzute Ce le può avere lui E poi Vero? Sì Secondo me sì Secondo me sì Facciamo così Così Ah non lo so E le gambe Giusto per cambiarle Magari mettiamole su Anzi È difficile questo Steph Iniziate a guardare le consolini Fere sei pronta a vederlo? Sì Vado? Io tanto non cambio idea So già cosa devo creare vai Non mi si crea Fere Si rifiuta Eccolo Il lupo però non è così pacifico No il lupo è pacifico Ti difende ma è pacifico Infatti è stato il pezzo più furbo che io ho messo Ah beh sì hai ragione Perché secondo me è anche bello forte Allora il mio Cioè non lo so cosa ne può uscire Mi sta fissando Mi sta mettendo ansia Beh io ho creato una bestia di satana Cioè questo No anche il mio Magari vincerà Però è proprio brutto ragazzi Io non me la sento di Mi sento in colpa per averlo creato Anch'io Togliti che devo creare il mio Vattene Vieni qua bravo Non me la sento Vieni dal tuo padrone Vieni dal tuo padrone Però ho capito perché ci sono tre villager contati a vedere queste risse No battere Il lupo vince Il lupo vince Uno padri signori Steph se la porta a casa Fere Non lo maltrattare poverino Dai che ce la fai lo stesso Batti anche Fere Non lo so Batti anche Fere diventi il mio Ma non muore Ma com'è possibile Questa volta Fere E aggiungo pure che questo round manderà in vantaggio uno di ne due Col due a uno Ok Ok Questa volta il tema è solo creature che hanno almeno quattro zampe Ok Ok Quindi abbiamo Però aspetta contano anche le gambe o le zampe Allora abbiamo mucche, maiale, pecora e ragno, ragno, squid e credo basta Vabbè il pollo Hanno il pollo alle ali Sta su due Ok Questo è difficile eh Concentrati perché questo è difficile Allora Ragioniamo Quindi Me li sono dimenticata Ragno, ragno, maiale Tutto quello che sta su quattro cose Ok Io voglio il suo testone Bello Mi piace Poi voglio Il corpo suo Che secondo me non è male Ma esce un qualcosa di terribile Le gambe Dai facciamo le sue Però le braccia cosa mettiamo? Le braccia sono difficili Perché non abbiamo tanta scelta Allora anch'io molta paura del mio eh Perché È strano Oh mamma mia Ma dai Cioè ma povero Mi fa Cioè mi sta guardando Sai cosa mi sta dicendo? Ti prego uccidimi Ti prego poni fine alla mia vita triste Che Steph mi ha dato Ti prego Aiutami Steph non lo puoi fare però eh No Steph Cioè Povero Nella sfida del più No sei crudele Nella sfida del più carino Questo vinceva tutta la vita È troppo bellino Guardatelo Sei crudelissimo Sei crudelissimo Steph Sei crudelissimo Sappilo Non lo so è troppo bellino Cioè questo sembra il sedere Guarda il sedere che gli esce fuori Ma povero Aspetta Aspetta Io sento il bisogno di fare una foto anche a lui Perché magari poi muore Non ci sarà mai più E voglio una foto ricordo Quindi aspetta Vai Lo metto in posa Così Si è anche girato Si è un po' girato Guardate È uscita benissimo È carinissimo Lo ricorderò per sempre Pronta Fere Vai 3 2 1 Via Ok Eccoli Ma perché il tuo salta No ma il mio non riesce neanche a girarsi Non ci arriva poverino Ci mette un sacco Colpendo con i piedi Perché non altro Guarda guarda I piedi Ho braccia Non so cosa siano Io in lui ci credo ancora Gli ho fatto la foto E quindi è più cattivo È più cattivo Vediamo Dai che ce la fai bello Dai che ce la portiamo a casa Andiamo in vantaggio col 2 a 1 Dai Dai bello Era ovvio Vabbè la testa del lupo Vedi che la testa del lupo è forte Steph La sfida l'hai vinto a tu Fere 2 a 1 Grazie Chi è che ha vinto qui Steph L'hai vinta a tu Fere Io te l'avevo detto Ero un po' spuntata Come cosa Cioè era ovvio Nell'inizio del video Tutti sapevano chi avrei vinto E l'hai vinto Solo perché hai fatto la furbetta Con quel lupo Oh perché Te l'ho reso Perché l'hai fatto prima tu Steph Ma appunto Io sono l'artefice che ci ha pensato In ogni caso Diciamo che Oltre a questa sfida Facciamo una sfida finale Ok Dove Dovremmo creare Due mostri Che andranno ad attaccare Questo golem qua Ok E l'unica cosa Che non potremmo utilizzare Sono proprio i pezzi del golem Perché altrimenti È troppo facile No certo Ok Quindi dobbiamo creare Un mostro Il più forte possibile Per fronteggiare un golem Dobbiamo allearci Per sconfiggerlo Eccolo qua Fede Eh Ok Vuoi vedere il mio Vai Aspetta Aspetta che non va Ok Eh Eh Allora devo dire Che è anche carino Sì molto È uscito compatto Molto carino La forza è la prima volta Che ho qualcosa di compatto Il mio non lo è Hai visto le braccia Della witch Però Sembra cattivo Sì Andiamo Sì andiamo Ok dobbiamo fare quindi Un tasto sinistro sul golem E scappare Perché altrimenti Il golem ci massacra Pronto 3 2 1 Vai Vai scappa 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 Il mio non si è svegliato Vai 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 Il mio non è andato Aspetta che devo riattaccare Fallo andare Il mio sta già attaccando Ma aspetta Ma il golem non risponde Cioè non gliene frega nulla È pacifico Forse così è un po' troppo Questo è un bel avversario Steph Aspettiamo che gli si ricarichi bene la vita E andiamo Pranta Sì Vai Non ce la possono fare Non ce la possono fare In nessun modo Cioè Smettila di picchiarmi Infatti io sono rimasto in game mode Per un motivo Eh mi potevi avvisare Steph Vabbè torno e me la godo Dalla visuale Beh è lui Isola I nostri mostri Non ci arrivano Lì in alto E quindi È proprio È troppo forte Abbiamo esagerato Eh sì Non mi veniva in mente Nessun altro Eh volevo qualcosa di forte Ma così Cioè è di nuovo triste Questa battaglia Però aspetta Qualche colpo lo prendo ogni tanto Il tuo è morto Il tuo è morto No no ma hai preso un colpo Perché vola È furbo No 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 Io ho visto che comunque Gli è arrivata qualcosa È finita Vabbè Adesso Dai lasciamo perdere così Steph Sì sì Lasciamola anche in pace Che se no ci ammazza anche in game mode Guarda Rimani qui nella tua arena È tutto tuo Noi ce ne andiamo Te la lasciamo Tu all'arena Tu al pubblico Ciao Arrivederci Per che se ti riesci Inizio Ciao Dici un like E se la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare lì Da iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao Ciao